In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, Maria, Sedes Sapientie, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, vedete davanti a voi il titolo del mio piccolo intervento di oggi, il Conopeo e la Lampada, segnali della presenza eucaristica. Per quanto riguarda la Lampada, tutti sapevamo che è uno dei segni, quando è accesa, che nel tabernacolo c'è la Santissima Eucaristia. Ma pochi sanno che anche il Conopeo è un segno della presenza eucaristica. Che cosa significa questa parola? Intanto diciamo che deriva dal greco, Conops, Conopos, è la zanzara, pertanto il Conopeion è la zanzariera, proprio così. La zanzariera, o tenda comunque, possiamo chiamarla anche tenda, perché fino a pochi decenni fa, carissimi fedeli, io ne sono testimone, una delle preoccupazioni del sacerdote era quella di tenere lontano gli insetti dalle specie eucaristiche, specialmente quando, in una civiltà in cui, la presenza di animali era molto ravvicinata alle case e anche alle chiese. Questo è il primo, diciamo, il primo scopo del Conopeo, quello più pratico, ma c'è anche un altro scopo più spirituale, è quello di proteggere da uno sguardo troppo superbo, poco rispettoso, la porta del tabernacolo, quindi di insinuare nel fedele un maggiore rispetto verso la presenza del Signore. Questo è un esempio di Conopeo, piuttosto antico, realizzato in seta bianca e con ricami in oro. La struttura del Conopeo è quasi sempre questa, è spesso questa, c'è una mantovana che in questo caso ha forma triangolare, perché il tabernacolo evidentemente aveva il frontone a forma di triangolo, c'è una mantovana di stoffa, qui la vediamo di stoffa, e una tenda aperta sul davanti, questa è la forma più semplice, classica e più frequente. Andiamo avanti, qui invece vediamo in questo bellissimo altare, peccato che l'immagine è un po' sfocata, vediamo che il Conopeo ricopre completamente, non solo la porta, ma tutta la struttura del tabernacolo. Anche qui c'è una mantovana, la si può vedere, da questo passamaneria trasversale, e una tenda aperta sul davanti. Secondo le regole della liturgia, il Conopeo dovrebbe proprio essere così, cioè coprire completamente tutto il tabernacolo, ma là dove non è possibile, almeno che copra la porticina del tabernacolo, per i motivi che ho accennato prima. Ecco un altro Conopeo, qui siamo nel Novecento, un Conopeo molto bello, quindi bianco, penso che sia raso, ci sono dei ricami, ancora una volta c'è una mantovana, questa volta di legno, mobile, e la tenda aperta sul davanti. Un altro Conopeo, questa volta colorato, siamo già fuori dal bianco, questo è rosso, ci fa capire che il Conopeo può cambiare di colore. I colori del Conopeo sono soltanto quattro, non ce ne sono di più, cioè mentre la pianeta può essere anche nera, rosacea, può essere azzurra, Il Conopeo può essere solo rosso, come in questo caso, bianco, verde e violaceo. Naturalmente il bianco può essere sostituito dal dorato e dall'argentato, che sono varianti del bianco. Non è obbligatorio cambiare il colore del Conopeo, si potrebbe anche sempre tenere il bianco, oppure il dorato o l'argentato. Qui abbiamo anche due lampade del Santissimo, una certamente è obbligatoria, se ne possono avere due, e in questo caso però vanno sistemate in modo simmetrico rispetto al tabernacolo. Le lampade possono essere anche di più in certi altari molto importanti. E ripeto, il Conopeo c'è soltanto quando c'è la presenza eucaristica all'interno del tabernacolo. Un altro esempio di Conopeo, siamo nel Novecento, inizio Novecento, è bello soprattutto per quanto riguarda il ricamo, che ispira veramente una certa devozione alla Santissima Eucaristia. Ecco la lampada. La lampada del Santissimo Sacramento non è altro che un bicchiere allungato di vetro, colore rosso, nel quale si infila un candelotto di cera oppure si riempie con olio o con cera liquida. In questo caso la lampada del Santissimo Sacramento è stata fissata sopra un supporto. Questa è la base di un candeliere. Qui invece è applicata la parete. In questo caso la lampada è elettrica. Non è una soluzione bellissima per quanto riguarda il Santissimo Sacramento, ma capisco che in certe cappelle ricavate da stanze con soffitti bassi tenere acceso una fiamma viva 24 ore su 24 per 365 giorni vuol dire avere sempre il soffitto nero. Ecco un'altra soluzione fare pendere dall'alto la lampada del Santissimo. Questo però è un uso improprio della lampada perché hanno appoggiato il cerone là dove c'era la coppa dell'olio. Questa è una lampada ad olio. Ecco questo è proprio un contenitore di olio. Questa parte rigonfia della lampada naturalmente è svuotato e hanno appoggiato il candelotto di cera. Uso improprio ma la lampada è molto bella. Voglio così terminare con questo bel altare un altare laterale perché come vedete non c'è il tronetto e per di più il tabernacolo finisce a cupola non si può neanche appoggiare un tronetto mobile. Sia lodato Gesù Cristo.